La cultura musicale napoletana Neapolitan EduPower è un progetto educativo formativo sulla cultura musicale antica e classica napoletana realizzato in partenariato con il Comune di Napoli, una proposta didattica curricolare per circa 5.000 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per far conoscere alle nuove generazioni il patrimonio musicale napoletano con un piano di formazione che consentirà di conoscere tradizioni, luoghi ed espressioni artistiche napoletane dal 1400 fino alla contemporaneità. Si comincia dalle villanelle del 400 e 500. Abbiamo lavorato più di 4 mesi con le scuole per preparare i ragazzi alla visione di uno spettacolo che sarà il 10 maggio al Teatro Trianon Viviani e dalle 9.30 del mattino partirà questa grande festa con gli alunni delle scuole che hanno aderito proprio su quello che loro hanno fatto durante questo percorso di laboratorio e di formazione. La nostra azienda che ha come vocazione quella di promuovere, divulgare e valorizzare la cultura italiana nel mondo, nelle generazioni e in particolar modo la cultura napoletana. È un progetto che ha un ampio valore educativo. È incominciato quest'anno con uno start-up in alcune scuole sia di Napoli che della provincia con azioni di formazione dei docenti che hanno poi lavorato con i bambini. Il focus di quest'anno era sul 400-500-600. L'anno prossimo però si allargherà tutte le scuole napoletane e si lavorerà poi sulla stagione d'oro della canzone napoletana. Aspettiamo che molte scuole possano aderire a questo progetto perché è veramente un modo per avvicinare i ragazzi alle nostre tradizioni, alle radici delle nostre tradizioni culturali, canore, scoprire anche dei nuovi talenti e rendere i ragazzi sempre più consapevoli di quello che è il nostro bagaglio culturale e delle nostre tradizioni.